fratelli bianconeri e non buonasera a tutti voi dopo aver visto anche se a sprazi l'amichevole della juventus oggi con il rieca finita 1 a 0 in favore dei bianconeri di mago sorzone stasera ho avuto il piacere devo dire di essermi rifatto con una partita meravigliosamente bella che è stata manchester city liverpool una partita che veramente ti riappacifica contro le rabbie che noi vediamo del nostro mediocre campionato italiano fatto di troppo tatticismo fatta troppo aver paura di perdere e tutto questo non trae certamente beneficio come spettacolo da offrire al pubblico invece stasera si è vista una partita dove il manchester city ha vinto per 3 a 2 con giocatori splendidi ma non è soltanto il giocatore che in italia ormai non ci sono più questo tipo di campioni uno su tutti de bruin un giocatore incredibile che io amo al di sopra di tutti gli altri giocatori esistenti oggi giocatore fantastico che amo ancora di più perché c'ho il cappello leggermente svolazzante è svolazzante che io amo ancora di più perché non ha il procuratore e questo me lo fa amare ancora di più detto questo una partita splendida per tanti motivi perché il calcio inglese segue la regola che io vorrei che si seguisse anche nel calcio italiano cioè io non devo giocare per il corto muso come lo definisce allegri io vorrei giocare per fare un gol in più degli altri e stasera non si sono assolutamente risparmiate le due squadre inglesi in campo una partita spettacolare bellissima che avrebbe potuto finire 10 a 9 una partita giocata con un'intensità che a che io mi ricordi forse una juventus con un'intensità del genere l'abbiamo vista il primo anno di conte perché secondo me già il secondo anno era un po calata ma soprattutto gli anni di marcello lippi dove c'era questa intensità quella voglia di vincere quella rabbia agonistica che oggi la juventus non sa nemmeno che dove sta più di casa e quindi ho intitolato questo video manchester city liverpool citofonare allegri proprio perché quando allegri chiese se qualcuno mi spiega cosa vuol dire giocare bene beh io gli consiglio ad allegri di guardare partite come questa perché non è soltanto una questione di intensità è una questione di geometrie è una questione dove ogni giocatore sta al posto giusto sanno fare perfettamente quello che gli chiedono i loro allenatori due grandi allenatori club e guardiola che tra l'altro hanno reso un'immagine al mondo del calcio a mio parere bellissima perché verso mi pare intorno alla metà del secondo tempo si sono ritrovati praticamente vicini attaccati e si sono fatti una bella risata che è stata ripresa è stato un gesto molto bello secondo me e questi lo fanno veramente i grandi i grandi campioni quando si rispettano e ripeto io credo che questo sia il vero significato del calcio una partita come questa veramente ria pacifica con il gioco cosa vuol dire giocare bene cosa vuol dire quando esiste un metodo di gioco non esiste soltanto che modulo usiamo e poi in campo magari si va a casaccio usiamo quel modulo e lo adottiamo perfettamente io questo ho visto stasera in manchester city liverpool è finita 3 a 2 per il manchester city i quali eliminano il la squadra dei dei red devil e da questa coppa e vanno avanti e credo che abbiano delle grosse possibilità anche di vincerla perché veramente sono sono veramente forti hanno dei giocatori tutte e due le squadre veramente da da innalzare su dei piedistalli ma a mio parere ancora più forti ce li ha il manchester city per esempio hanno un difensore non so se un difensore un centrocampista credo che sia più un mediano un qualcosa del genere si chiama rodrigo un giocatore dotato di una cattiveria e di una forza fisica impressionante poi c'è quel erling holland o allan come lo chiamano in molti che è comunque un assassino d'aria il primo gol è stato il suo ma tanti giocatori veramente gundogan giocatore spettacolare veramente una partita che mi ha fatto godere veramente godere al contrario anche se l'importanza non era quella anche se l'avversario non era quello perché non è che mi posso permettere di paragonare rieca al liverpool ma certamente non posso paragonare la juventus al manchester city una juventus condita soltanto da ragazzini pochissimi giocatori titolari ma è stata una brutta amichevole una partita che non mi ha detto nulla ecco perché io tendenzialmente non guardo queste partite perché quell'intensità di gioco quella voglia di vincere quella grinta quella rabbia nella juventus non la vedo più da tempo purtroppo e continuo a vedere la solita juventus da cortomuso basta che si vinca 1 a 0 risicato va bene così mi dispiace io continuo a credere che questo allenatore abbia fatto il suo tempo come continuo a credere che la juventus debba pensare un pochino più in grande un po molto più in grande basta con questi allenatori dotati al risparmio basta che si porti a casa il gollettino che va bene così con delle prestazioni indecorose la cosa che voi sicuramente in questo video qualcuno di voi dirà sarà amo demon quanto ero un amichevole cosa conta no invece contano perché anche le amichevoli ti fanno capire come gioca una squadra anche da qui si vede e io oggi in questa amichevole ho visto la stessa squadra che ho visto in altre occasioni in partite ufficiali importanti sì abbiamo fatto qualcosa di meglio contro l'arsenal ma francamente anche l'arsenal è una squadra di giovanotti quindi non è che mi aspettassi chissà di vedere che cosa abbiamo vinto 2 a 0 la prima 1 a 0 la seconda sì vincere fa bene perché aiuta a vincere però gli spettacoli restano e continuano ad essere sinceramente molto molto mediocri non mi piace più questo calcio della juventus io ripeto mi auguro che questo allenatore a fine stagione lasci oppure lo facciano lasciare e che veramente si possa andare incontro ad un progetto di calcio vero importante dove la juventus dove i tifosi della juventus quando vanno a spendere soldi allo stadium si divertano e non vedano soltanto le partite perché la palla entra nella rete una volta o due al massimo a partita frutto poi di giocate estemporanee come il più delle volte succede per cui mi auguro che alla fine di questa stagione indipendentemente da cosa succederà che si vinca qualche trofeo o meno io mi auguro questa via mi auguro che cambi l'allenatore è cambiata la dirigenza per il momento e non sappiamo nemmeno se sarà quella definitiva perché tutto è da capire ancora cosa succederà e non si sa se la juventus sarà ancora di di agnelli perché ci sono voci abbastanza insistenti sul fatto che potrebbe cambiare anche la proprietà nel senso che la juventus venisse ceduta vedremo se tutto questo avranno costrutto però ripeto io credo che oggi come oggi la cosa più importante sia basta con questi allenatori che giocano al risparmio per vincere la partitina risicata basta con questi allenatori non se ne può veramente più io voglio vedere la juventus giocare come ho visto giocare city e liverpool stasera quando abbiamo giocato così noi ci siamo divertiti ti può anche capitare di perdere assolutamente però la partita te la gusti tutta e ti diverti ma soprattutto vorrei far notare anche un'altra cosa non ci sono perdite di tempo da noi soprattutto in italia dove i giocatori sono dei blef blef i giocatori italiani soprattutto sono dei blef vengono toccati un secondo 90 volte su 100 dopo 3 secondi si rialzano e corrono più di prima in inghilterra non succede sarà forse perché li ammoniscono io non ne ho idea però non ho visto a parte un incidente che è stato nel primo tempo che ha fatto perdere diversi minuti perché si era veramente fatto male per il resto non si buttano a terra non fanno finte non perdono tempo corrono tutte le partite la partita è durata nel primo tempo non so quanto abbiano recuperato non mi ricordo nel secondo tempo se non mi ricordo male credo 4 minuti beh hanno giocato anche 100 minuti ragazzi vanno 100 minuti ai 150 all'ora non si fermano mai spettacolo spettacolo davvero sotto tutti i punti di vista manchester city liverpool citofonare allegri